Michelle è la prossima finalista, andiamo a conoscerla. Ciao, da dove vieni? Ciao, io vengo da Bagnari Arsa, un poesino in provincia di Udine, vicino a Palmanova. Qual è il tuo sport preferito? Io pratico danza latinoamericana in standard da quando avevo 7 anni e con un ballerino al club Diamante di Fogliano di Redi Puglia. Vuoi dirci qual è il viaggio che vorresti fare in un futuro? Vorrei andare in Florida perché fa molto caldo e io amo il mare ed è il clima ideale. Vuoi farci un saluto? Saluto tutta la mia famiglia.